Il video in cui vi mostro i segreti creepy di Brawl Stars vi è piaciuto davvero tantissimo E quindi oggi vi mostrerò le cose più spaventose accadute su Brawl Stars Basta Ricordate l'errore di caricamento che vi ho mostrato nello scorso video? Beh, la barra di caricamento del gioco di questo giocatore era completamente impazzita Pensate che addirittura non si sa se questo ragazzo abbia risolto il problema In quanto ha dovuto persino disinstallare e reinstallare Brawl Stars Chissà se la maledizione del caricamento vive ancora nel suo profilo E ad alcuni giocatori addirittura è successo una variante dell'errore di caricamento Forse questa variante è addirittura peggio di quella precedente Ad altri è anche successo questo Tutto lo schermo tremava completamente Mentre queste cose sono davvero creepy Immaginate se succedono alle 3 del mattino Attenzione che all'interno del negozio stanno uscendo skin spettacolari Come ad esempio restecca in offerta E tra pochissimo arriverà anche la carissima Tara Malasorte Mi raccomando prima di shoppare le skin o di ricaricare le gemme Scorrete in fondo al negozio ed inserite il codice Kazu K-A-Z-U Passiamo alla prossima cosa molto creepy Il colt di un giocatore in lobby appare totalmente nero e con uno sguardo non molto rassicurante Un altro errore assolutamente creepy è successo ad un ragazzo che ha riscontrato un piccolo problema con il carissimo Bull Ditemi voi se questa cosa non è creepy Credo che stanotte addirittura non dormirò Se va bene dai ora non esageriamo eh Ma oltre a bulli accolti è accaduto anche ad altri brawler da come potete vedere da queste immagini Ma non solo ai brawler Anche i robot del campo di prova sono stati colpiti da questo errore molto creepy Anche la mappa parallel play di dominio nasconde un segreto Nella parte sinistra della mappa si può vedere stecca senza occhi E non ha neanche un profilo ben definito Bene 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 è arrivato il momento di continuare con i prossimi errori creepy Alcune persone hanno ritrovato i loro brawler così Ma ambra è quasi accettabile devo essere sincero Quasi quasi la lascerei così all'intero del gioco almeno intimorisce gli avversari Invece 8 bit senza pupille devo essere sincero fa abbastanza paura per non parlare di Penny e Dynamike E poi c'è Bea che con questo bug molto misterioso inizia a fluttuare completamente a caso nel campo di prova Questa che vi sto per dire fa abbastanza paura Ma se non l'avete ancora fatto spolliciate più non posso E come potete vedere questo giocatore ha trovato Iris e Pocho in questo modo E guardatelo come strano Spero che non mi capitino mai dei bug grafici del genere su Brawl Stars Soprattutto quando faccio le mie sessioni notturne Era da un bel po' di tempo che non portavo la ruota dei brawler su Brawl Stars Si gioca con Mortis Tra l'altro con questa fantastica skin Shoppata con il codice Kazu E onestamente non credo che questa mappa sia la più adatta per il signor Mortisio Però non ci posso fare niente La scelta la ruota E come potete vedere siamo in una sopravvivenza Con un'ambientazione abbastanza paurosa Beh dobbiamo comunque rimanere a tema col video Ma i segreti non finiscono qui Soprattutto quello che vi sto per dire Molto molto pauroso Addirittura più pauroso del video dello Star Park Attenzione, attenzione Vada signor Mortisio, vada signor Mortisio Mortis contro Mortis Io ovviamente ho il succhetto e quindi riesco a vincere per forza Perfetto Sei power up No Ma che cavolo ha combinato il mio bombardino E che sto combinando anche io Kazu fai qualcosa No Mortis non è stato bravissimo Oppure semplicemente io e il mio compagno siamo stati in ambi Leon Stavolta però non me ne frega Giochiamo all'interno di football con il carissimo Leon E ci dobbiamo assolutamente portare a casa la partita No Calmi Attenzione che c'è anche Sosi Giopi all'interno della partita E ci hanno appena segnato Sì Proprio lui Kazuo San Concentrati Addirittura ha attivato il gadget Così possiamo distruggere un pochettino gli avversari Ma è che chiediamo Gelindo Passami la palla Stecca Passami la palla Kazuo San Prova il tiro E ci portiamo il gol a casa Perfetto Abbiamo anche la super che andiamo ad attivare subitissimo Ma buongiorno carissimi avversari Non ve lo aspettavate Non ve lo aspettavate Perfetto Double kill Prendiamo subitissimo la palla E si continua ad avanzare verso la porta No 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 Calmi per favore Calmi per favore Io devo provare No ci voglio credere Per sbaglio ho attivato anche l'invisibilità E non l'ho fatto assolutamente apposta Il problema è che c'è sto compagno di squadra Stecca Ma che cavolo sta combinando Pensa a giocare A chilare di avversari Perfavore Signori amici Signori compagni Perfavore Oh bella giocata Questa qui di Stecca Il problema È che devo assolutamente Attivare l'invisibilità Così riesco ad avanzare Più in fretta No Ho provato il tiro Cazzo Non ci voglio credere Mi sto iniziando ad arrabbiare Seriamente Lo sto dicendo Seriamente Mi sto arrabbiando Perché non lo supporto Da parte dei miei compagni di squadra Io onestamente Ci sto provando In tutti i modi A segnare Solo che non ci riesco Gelindo fatti killare Gelindo fatti Niente Non si vuol far killare Aspetta Che attivo l'invisibilità E li killiamo tutti quanti Perfetto E siamo arrivati Quasi ai supplementari Manca poco più di 10 secondi Il problema Oh no 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 Spazza via la palla Ok 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 Abbiamo killato Gelindo E adesso dobbiamo solamente Pensare ad avanzare Solo che Gelindo Con la sua super Dà abbastanza fastidio Magari ci posso provare Da questa parte Ho provato il tiro Ed è gol Si gonfia la rete Quest'ultimo mistero Affianca Quello della radio Da abbastanza mesi ormai Infatti Questo canale Che si chiama Rejected Pubblicava ogni giorno Video misteriosi All'interno della quale Faceva apparenti spoiler Persino i titoli Erano strani Ed erano in codice morse E nei video Apparivano frasi Del tipo Club war in coming Quindi Guerre tra club In arrivo Oppure Numeri Parole Lettere E tutti Cercavano di fare Strani collegamenti Con il mondo Di brawl stars Perché si Era sempre presente Un logo Molto creepy Di brawl stars Penso che questo Sia stato il canale Più misterioso Che fa riferimento A brawl stars E ovviamente Non si sa Se questo canale Sia ufficiale Supercell E la supercell In generale Non si è mai esposta Più di tanto A differenza Della radio Brawl stars Che è Tra virgolette Diventato un qualcosa D'ufficiale Infatti È presente Il link Del canale Che trasmette Quella diretta Addirittura Nella descrizione Del gioco E da qualche giorno Il canale Rejected Ha cambiato Il nome E ha cancellato Tutti i video Che ha fatto In precedenza E l'ultimo video Si intitola Goodbye Che raffigura Un apparente addio Ebbene si È proprio apparente In quanto Alla fine Del video Si sente Una voce Invertita Che tradotto In italiano Dice Ritornerò Questa Non è la fine Ma cosa Cavolo Si sta riferendo Ditemi Se questa cosa Non fa paura Ma voi intanto Scorrete in fondo Negozi E andate ad inserire Il codice No no Vabbè sto scherzando Inserite il codice K V K A Z U Ciao